Dicono che sia quasi impossibile riuscire a premere lo spazio tra il cuore e il segui. Provaci e se ci riesci fammelo sapere nei commenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dicono che sia quasi impossibile riuscire a premere lo spazio tra il cuore e il segui. Provaci e se ci riesci fammelo sapere nei commenti. Provaci e se ci riesci fammelo sapere nei commenti. Provaci e se ci riesci fammelo sapere nei commenti. Grazie a tutti. Provaci e se ci riesci. e se ci riesci fammelo sapere nei commenti. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.